Anche se siamo sul mare questa pastella mi ricorda i miei inizi perché ho cominciato con Modella lavorando con dei grandi nomi della moda come Armani, Crizia, Versace ed eccoci qui. E dalla moda sono passata al campo della comunicazione perché adoro viaggiare, scoprire le cose belle, buone. Una delle cose più belle del mio lavoro è sicuramente il fatto di poter viaggiare e scoprire dei posti nuovi. Oggi mi trovo a Marina di Bibbona, al villaggio di Sorbizi con questa piscina stupenda e non vedo l'ora domani di farmi un tuffo. È arrivata la sera, è bello rilassarsi a questo punto in questo salotto e iniziare a pensare all'ichinerario di domani.